La carbonara pitagorica, come è nata questa idea? Allora, la carbonara pitagorica è un piatto, un piatto che assieme a Salvatore Gaetano, con il quale condividiamo questi due importanti progetti, Oscego Calabria e Magna Grecia Lifestyle, abbiamo degustato un giorno da Ercole. Ercole Villirillo è uno dei più grandi cuochi del Mediterraneo, ha grandi capacità di lavorare la materia prima e di interpretarla secondo quelli che per noi sono appunto alcuni dei principi di fondo del pensiero pitagorico. Prima di tutti il concetto di armonia, di armonia universale. E questo piatto riesce, è una carbonara a base di pesce, è un piatto che proprio per il senso dell'equilibrio che riesce a dimostrare, per questa armonia che ha dal punto di vista olfattivo, del gusto, ma anche cromatico, ci ha dato l'idea di costruire appunto attorno a questo piatto una pubblicazione, un libro, che sia capace di recuperare a pieno le importantissime strategiche radici storico-culturali di Crotone, a partire appunto dalla scuola pitagorica, per promuovere di fatto un modello di sviluppo a misura d'uomo, un modello di sviluppo sostenibile, una risposta a quelle che sono tutte le grandi contraddizioni, i grandi difetti, i grandi errori di un mondo globale che sta purtroppo dimostrando tutti i propri limiti ed è anche causa di grandi disastri sociali. Diverse ricette, non solo anche in questo libro, tra innovazione e tradizione, è comunque anche un'ampia sintesi di quello che era l'antica Crotone. Allora, questo nostro grande cuoco, Ercole Villirillo, si contraddistingue per la capacità di proporre una grande cucina di tradizione, quindi abbiamo recuperato in questo volume una buona fetta di tradizioni marinare di Crotone, ma anche di riuscire a partire da una materia prima sempre eccellente e di qualità, a proporre innovazione. E quindi nel volume, come tu dicevi, ci sono diversi riferimenti ad alcune ricette, sia della tradizione crotonese, ma anche di innovazione, non solo di mare, ma anche di terra. Ad esempio, un po' tutti sapranno che uno dei piatti tipici di Crotone è quello dei covatelli, che appunto sono conditi con un revu di carne.